17 maggio giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia. Napoli aderisce con alcune iniziative cittadine fra cui un flash mob in piazza Trieste e Trento organizzato dal comune di Napoli e dalla città metropolitana. Napoli è una città che tenta ogni giorno di affermare un concetto che ormai sembra in controtendenza. Ci stanno insegnando a individuare il diverso, a tacciarlo e ad isolarlo nel contesto e a fare anche un'enorme amalgama dei diversi, che siano le persone con la pelle diversa, che abbiano un modo di comportarsi o di vestirsi diverso o che addirittura abbiano orientamenti sessuali o identità di genere diverse. Noi ci opponiamo a qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di omotransbifobia. In piazza si raccontano esperienze vere di adolescenti bullizzati dai coetanei, soprattutto a scuola. Alcune di queste storie finiscono tragicamente. Da uno studio dell'Università Milano Bicocca, basato su un campione di due milioni e mezzo di giovani, risulta che un adolescente omosessuale rischia il suicidio 3,7 volte più di un coetaneo eterosessuale e il rischio sale al 5,8 per gli adolescenti transessuali. Io ho il privilegio di essere il dirigente scolastico di una scuola dell'infanzia e primaria, quindi seguo nella crescita insieme alle famiglie i bambini dai 3 ai 10 anni. È chiaro che per bambini così piccoli essere vicino a loro e contribuire alla loro formazione in relazione ai temi, che sono quelli oggetto della giornata di oggi, significa cominciare a guidarli nell'educazione, all'accoglienza dell'altro e al rispetto reciproco e al rispetto delle regole. Poi piano piano si arriva a affrontare le tematiche in maniera sempre più specifica. Quello che è importante è che bisogna guidarli a conoscere, sì, e a conoscere, ad evitare quindi che poi in quella fase così delicata della preadolescenza e dell'adolescenza possa accadere in loro, accanto a loro, qualcosa che ho di spaventi o che non riescano a comprendere. Nel 2014 l'UNICEF ha sostenuto che ogni bambino ha diritto a un'infanzia libera da discriminazioni, a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere reale o percepita. L'Associazione Italiana di Psicologia spiega che un'educazione sessuale nelle scuole che parli anche di orientamento sessuale e di genere, aiuta a far chiarezza sulle dimensioni della sessualità e dell'affettività, a promuovere una cultura delle differenze e del rispetto e a contrastare il bullismo e le discriminazioni. Possiamo e dobbiamo trasmettere dei messaggi che sono dei messaggi di inclusione, di accoglienza, di riconoscere le differenze e la dignità di ciascuno, a prescindere dalle scelte e dagli orientamenti sessuali. Sono tutte persone. Peraltro io frequentando questa comunità LGBT mi sono resa conto che nel dolore c'è tanta sofferenza ma c'è anche tanto amore. Cioè loro non hanno, in tutte le discriminazioni e le forme di esclusione che hanno vissuto, anche nelle violenze fisiche che hanno vissuto, non hanno accumulato rabbia, hanno accumulato desiderio di esserci. Cioè una grande dignità e una grande affezione a questa città e alle persone di questa città. Per noi sono un esempio. Per noi sono un esempio.